Oggi quindi possiamo iniziare con un nuovo argomento, avendo grosso modo quasi chiuso il macro argomento della ricorsione, che poi di fatto diventerà il supporto per altri tipi di algoritmi che svolgeremo in modo ricorsivo, iniziamo uno dei due argomenti finali del corso, uno è quello sui grafi e l'altro più avanti sarà l'argomento sulle simulazioni ad eventi. Voi già sapete, già avete incontrato nel corso di ricerca operativa essenzialmente la definizione della struttura dati a grafo, più forse l'avete vista più dal punto di vista matematico e quindi io spenderò solo un attimo di tempo con una veloce carrellata su quelle che sono le principali definizioni dei termini relativi ai grafi, soprattutto per allinearci sulla terminologia. Dopodiché entriamo nel dettaglio, prima un po' con le slide e poi con un esercizio, su una libreria che useremo proprio per manipolare e gestire queste strutture dati a grafo. Essenzialmente, come sempre, adotteremo sempre il solito metodo, cerchiamo di capire un problema e prima di metterci, buttarci, diciamo così, a capofitto, a testa prima, sulla risoluzione, implementazione del problema, cerchiamo di capire se esistono già delle risorse, delle librerie, delle soluzioni pronte che ci possono aiutare, diciamo così, ad accelerare il nostro lavoro e a evitare di doverci implementare tutto con il rischio poi di sbagliare, inserire dei bug, eccetera. Troveremo che c'è una libreria abbastanza completa e comoda, ma ci arriviamo tra un attimo. Allora, sul discorso dei grafi, come dicevo, voi già sapete di che cosa si tratta, un grafo è un'entità principalmente matematica astratta, quindi un oggetto matematico, composto essenzialmente da due parti, che sono i vertici, oppure nodi, oppure a volte si chiamano anche punti di un grafo collegati, connessi da archi, che in italiano li chiamiamo archi, in inglese possiamo trovare sia la parola arch che la parola edge, più raramente linee, ma in italiano parliamo invece sempre di archi. Quindi, dal punto di vista formale, lo possiamo rappresentare così con una serie di pallini che corrispondono ai vertici e una serie di linee che in qualche modo collegano questi vertici. Questa vignetta praticamente racconta che nei vari domini scientifici ci sono molti tipi di informazioni che hanno una natura reticolare, cioè con punti che hanno informazioni di interesse e connessioni in qualche modo tra questi punti, dal punto di vista matematico tutti questi possono essere visti in modo unificato, astratto, in termini di grafi. Quindi a noi interessa in realtà il percorso inverso, cioè noi andiamo un attimo a studiare come sono i grafi, come si gestiscono e poi cercheremo di applicare quello che abbiamo imparato a problemi pratici, è un pochino il nostro percorso. Ecco, attenzione alla terminologia perché a volte ci si confonde tra grafo, grafico, eccetera. Allora, quando studiate analisi matematiche facevate i grafici di funzione, quindi in italiano si usa la parola grafico che in inglese o si usa plot oppure a volte si usa anche graph per indicare il grafico di una funzione, che è diverso dal grafo matematico, di quello di cui parliamo adesso, che appunto in italiano chiamiamo grafo e non grafico, quindi in italiano sono due termini diversi e distinti, entrambi, diciamo così, da non confondere tra di loro e da non confondere con un terzo tipo di grafo, che in italiano anche chiamiamo grafico, ma è il tipico grafico diciamo così a barre, a torta o grafico di tipo Excel, di tipo business, in certo senso. Quindi sono tre oggetti molto diversi da non confondere tra di loro, c'è una confusione perché in inglese si possono chiamare tutti e tre grafo, mentre in italiano grafo oppure grafico. Noi parlando di grafi, grafo, non abbiamo confusione perché non si può, diciamo così, confondere con le altre due rappresentazioni, ok? Parentesi, se poi qualcuno interessasse in realtà a fare dei chart, nella libreria JavaFX ci sono moltissimi, diciamo così, classi oggetti proprio per disegnare i grafici a barre, a linee, eccetera, che è anche in modo molto semplice, quindi se volete magari un giorno se abbiamo un'ora extra possiamo andare a vederlo. Non vi sto a fare la grossa teoria o la storia che sia dietro la teoria dei grafi, quindi sono cose che potete guardare o probabilmente che già conoscete, come dicevo, dalla ricerca operativa, si è iniziato a parlare di grafi circa un secolo fa, cent'anni fa, negli anni trenta del secolo scorso, per cercare di formalizzare dal punto di vista matematico un framework in cui poter ragionare, esprimere certi problemi e poi magari avere appunto il meccanismo per risolverli, per dimostrare, diciamo così, la risolubilità oppure meno di questi problemi, no? E tutto era l'esempio classico, è quello dei Sette Ponti della città di Königsberg, che adesso in realtà si chiama Kaliningrad, è una città che esiste davvero in Russia e uno dei problemi che si, diciamo così, nei salotti bene, che si discuteva all'epoca, era se fosse possibile fare una passeggiata in questa città che attraversasse tutti i ponti, e sono sette ponti, attraversandole tutti una volta sola e possibilmente tornando al punto di partenza. E beh, classico rompicapo, ma è un esempio di un problema che può essere generalizzato a una generica serie di interconnessioni in cui ci si chiede se si può, se è possibile costruire dei cammini che attraversano l'interconnessione disponibile con certe regole, con certi vincoli, no? In questo problema specifico si è, diciamo così, dimostrarono che non è possibile, non esiste nessun cammino con le caratteristiche citate, per cui se tu vuoi attraversare tutti i ponti sei obbligato ad attraversarne almeno uno, due volte, quindi non è possibile attraversarli tutti una volta sola. Vedremo più avanti che la dimostrazione quando parleremo di cammini sui grafi più avanti, no? Vabbè, qui ci sono delle vignette che ci raccontano delle soluzioni alternative, tipo, allora distruggiamo un ponte, oppure ne costruiamo uno nuovo e così risolviamo il problema, oppure ci teletrasportiamo, ma queste sono chiaramente soluzioni non valide, diciamo così, significa barare in certo senso. Ok, la struttura dati grafo è molto semplice, in realtà ha poi delle varianti, a seconda che noi permettiamo, oppure non permettiamo, il verificarsi di certe condizioni. Il grafo, come normalmente lo intendiamo, prende il nome di grafo semplice e ha la caratteristica che tra ogni coppia di vertici, quindi tra questo vertice e questo vertice, c'è un arco, quindi o c'è un arco, oppure non c'è come tra quest'altra coppia di vertici, ok? Quindi tra una determinata coppia di vertici può darsi che non ci sia nessun arco, oppure se c'è, ce n'è uno solo, che è diverso rispetto al caso, ad esempio, del multigrafo in cui tra una determinata coppia di vertici possono esistere più archi. quale tipo di grafo è meglio? Beh, dipende dal problema, dipende dal problema perché immaginiamo che se questo grafo rappresentasse una topologia stradale, allora magari per collegare due città io posso prendere la strada statale oppure l'autostrada, e quindi sono due percorsi diversi che collegano entrambi il punto A col punto B, ma avranno caratteristiche diverse di tempo di percorrenza, di lunghezza, di consumo di carburante diverso, eccetera, quindi può essere importante, diciamo, rappresentarle entrambe. Invece in altri casi ci interessa solamente sapere se il punto A è connesso al punto B sì o no, ad esempio se parlassimo di tratte aeree e collegamenti tra aeroporti, allora a quel punto non ci interessa, se ci sono più voli in realtà sono tutti linea retta tra questi due punti. Quindi dipende un po' dal tipo di problema, è chiaro che se abbiamo a che fare con dei multigrafi sarà un pochino più complicato gestirli, dal punto di vista proprio anche algoritmico. Un caso particolare può essere anche il fatto che ci sia degli archi che collegano un nodo con se stessa, in questo caso parliamo di loop in inglese, in italiano parliamo di cappio, cappio come quello della corda per impiccarsi. Anche qua in alcuni casi ha senso considerare se un vertice ha o non ha la possibilità di essere connesso con se stesso oppure no, quindi anche qua ci sono vari tipi di grafi, quindi per ogni volta dovremmo specificare se quella caratteristica per noi è accettabile oppure no. Il caso più generale è appunto il cosiddetto pseudografo che è un multigrafo che permette anche i loop e quindi in realtà posso fare praticamente qualunque tipo di connessione io voglia. Questo dal punto di vista del numero di archi. Poi gli archi stessi a loro volta possono essere semplicemente un collegamento tra due punti oppure un collegamento orientato tra due punti. Qui noi possiamo parlare di grafi non orientati, undirected, oppure di grafi orientati, quindi in inglese orientati o directed. Noi non facciamo molta distinzione tra grafi orientati e grafi diretti, perché dal punto di vista algoritmico diciamo così si tratta allo stesso modo, ma la differenza per noi è se il grafo non ha, se gli archi non hanno nessuna direzione e quindi questo arco qui che collega il vertice A al vertice B lo possiamo considerare sia un vertice tra A e B, sia un vertice tra B ed A, cioè sono la stessa cosa perché non c'è nessuna direzione implicita, viceversa invece questo arco sarà sicuramente un arco che collega B ad A e non possiamo dire il contrario, se dicessimo l'arco AB sarebbe l'arco invece che gira al contrario, va nella direzione inversa. Quindi nel secondo caso abbiamo degli archi che sono orientati e hanno una direzione. Poi possiamo avere degli archi che hanno entrambe le direzioni, ma in realtà non è altro che una scorciatoia per dire c'è sia l'arco in una direzione, sia l'arco nella direzione inversa, magari a volte per facilità di disegno li collassiamo in una. Quindi anche qua, combinandolo con la distinzione precedente, quindi sulla numerosità degli archi possiamo avere dei grafi in cui gli archi abbiano oppure non abbiano un orientamento e poi possiamo avere degli archi che abbiano oppure non abbiano un cosiddetto peso, cioè quindi possiamo associare dei numeri, dei pesi, dei valori a ciascuno degli archi, anche qua a seconda dei problemi, ad esempio se fosse un problema di trasporti, sì mi interessa la distanza, la lunghezza del percorso, se invece fosse un problema di un altro tipo mi interessa solamente se c'è la connessione oppure no. Quindi la definizione di grafo è molto molto ampia e ci ricadono tanti casi particolari da gestire. Così come i vertici a noi sembravano tutti uguali, tutti dei pallini neri, ma in realtà potremmo aver bisogno di distinguere o raggruppare i vertici in varie categorie, oppure gli archi in varie categorie, che poi in pratica queste categorie le chiamiamo per semplicità colori, e quindi parliamo di grafi colorati che sono grafi nei quali ciascun vertice ha un colore, un'etichetta, una categoria, oppure ciascun arco ha un colore, un'etichetta, una categoria. Ecco questi grafi colorati hanno la caratteristica che quando un arco, questo arco dovrà sempre collegare vertici di colori diversi, quindi questo ci permette di capire quali sono in un certo senso gli insiemi di vertici indipendenti tra di loro, cioè non collegati, quali sono i numeri massimi di vertici indipendenti tra di loro. Da qui ad esempio il famoso problema dei quattro colori, per aiutarsi con un grafo a disegnare una cartina geografica in cui gli archi sono i confini tra gli stati e tu ovviamente in una cartina geografica non puoi disegnare due stati confinanti nello stesso colore, altrimenti c'è una cartina politica, altrimenti non si capisce dove finisce uno stato e dove comincia quello adiacente, quindi c'è un problema di assegnare i colori opportunamente ai vertici, cioè alle nazioni, in modo che nessuna coppia di nazioni confinanti, ossia di vertici adiacenti collegati ad un arco abbiano lo stesso colore, quindi la struttura dati è semplice, ma poi su questa struttura dati noi aggiungiamo informazione, aggiungiamo dei pesi sugli archi, aggiungiamo dei pesi che sono dei numeri reali, dei pesi sui vertici, possiamo aggiungere dei colori sugli archi o dei vertici per rappresentare informazione aggiuntiva. Qui noi ci muoveremo in un contesto in cui questo grafo non è solamente una rete di puntini, ma ciascun puntino si porta dietro l'informazione, per me rappresenta qualcosa nel mio programma. Ok, date queste definizioni di base, un grafo dal punto di vista matematico non è altro che una coppia di vertici, di un insieme di vertici e un insieme di archi, ok? Non voglio entrare nei dettagli matematici, ma in realtà questa definizione ci serve perché poi la struttura dati che useremo nella libreria effettivamente lavora così, con due set, set proprio visti come i set della collection, un set di vertici e un set di archi, e ciascun arco altro non è che una coppia di vertici, rappresentato da una coppia di vertici. Quindi noi con due insiemi, un insieme di elementi e un insieme di coppie degli stessi elementi, l'insieme di elementi sono i vertici, l'insieme di coppie non sono altro che gli archi. Quindi ad esempio se volessimo rappresentare questo grafo, che è un grafo orientato, perché vediamo che gli archi hanno una freccia, potremmo dire che l'insieme di vertici, in questo caso ha anche un loop, l'insieme di vertici non è altro che l'insieme dei 5 nodi, quindi l'insieme V è un insieme che contiene i nodi che abbiamo chiamato per comodità 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gli archi, ebbè qui c'è un arco tra 1 e 2 e quindi lo rappresentiamo dalla coppia 1, 2. Poi c'è l'arco tra 2 e 5, ci sarà quindi da qualche parte la coppia 2, 5 e così via. Quindi quello che noi vediamo in formato grafico lo si può descrivere semplicemente anche in modo assolutamente equivalente anche in formato insiemistico. Questo, dicevo, direttamente nella libreria vedremo esattamente, abbiamo la libreria che gestisce i grafi esattamente con insiemi di questo genere, quindi ricordiamocelo. Ok, qui entra un pochino nel dettaglio sui grafi non orientati. Ecco, su un grafo non orientato in realtà la notazione è leggermente diversa, perché quest'arco qui non è l'arco 1, 2, neanche l'arco 2, 1, nel senso che nel primo caso rappresenterebbe un arco orientato verso destra, nel secondo caso rappresenterebbe un arco orientato verso sinistra. Per dire che non ci interessa l'orientamento, anziché rappresentare questo arco come una coppia, lo rappresentiamo a sua volta con un insieme di questo genere qua. Qui nelle slide matematicamente è l'arco che mette insieme, che collega il vertice 1 e il vertice 2, ma senza nessun ordine particolare. Allora, se noi lo scriviamo come insieme, diciamo, è esplicito il fatto che gli elementi di un insieme noi sappiamo che matematicamente non sono ordinati e quindi siamo più espliciti su quel fatto. Questa differenza tra avere una coppia o avere un insieme, quindi avere una piccola lista di due elementi, oppure avere un insieme di due elementi, beh, questo nella libreria non ci sarà questa distinzione, ma noi la possiamo tenere in mente matematicamente. C'è poi una terminologia che ci aiuta a dire chi è collegato a chi, ad esempio si parla di archi adiacenti o incidenti sui vertici, semplicemente è il verbo che ci dice che un arco è collegato a un vertice oppure un altro. E quindi un arco è adiacente ai vertici a cui ho collegato, quindi questo arco è adiacente sia al vertice 1 sia al vertice 5 e per estensione possiamo anche dire che un vertice è adiacente a un altro vertice se esiste almeno un arco che sia adiacente a questi due. Quindi noi possiamo parlare di adiacenza sia tra vertici ed archi, sia tra vertice e vertici se esistono degli archi che li collegano. Quindi chiaramente una delle operazioni fondamentali, dato un vertice, sarà trovare quali sono tutti quelli adiacenti. In un caso di un arco non orientato, tutti quelli adiacenti. Nel caso di un arco orientato, eh beh, saranno tutti quelli, torniamo nel grafo di prima, dal vertice 5 io posso raggiungere seguendo le frecce solamente il vertice 4 e non il 2, no? Perché avrei la freccia che giro al contrario e quindi non posso uscire da 5 e andare verso 2, mentre invece viceversa partendo da 2 posso raggiungere sia 5 che 4. Quindi un grafo orientato chiaramente non ha la simmetria della adiacenza, mentre invece un grafo non orientato lo posso vedere da qualunque lato, no? È simmetrico da questo punto di vista. Queste sono definizioni base, su queste definiamo due o tre alcuni altri termini che ci servono, ad esempio il grado di un vertice, e il grado di un vertice è semplicemente il numero di archi incidenti, cioè il numero di archi che toccano quel vertice, quindi ad esempio questo è un grafo in cui questi numerini qua rappresentano il grado dei vari vertici, quindi se prendiamo questo qui ad esempio, questo vertice ha 4 archi incidenti, 1, 2, 3, 4, quindi il suo grado vale 4, semplicemente è una definizione. Nel caso di un grafo orientato allora si distingue tra il grado in ingresso in degree e il grado in uscita all'out degree, che chiaramente contando solamente gli archi entranti oppure contando solamente gli archi uscenti, oppure il grado totale che è la somma del grado di ingresso e del grado di uscita. Poi ci sono dei vertici sfortunati che hanno un grado 0, significa che questi vertici sono isolati, cioè non sono direttamente adiacenti a nessun altro vertice, quindi se io avessi un altro vertice qua nel mio grafo, poverino, lui fa parte del grafo perché non dovrebbe, è però a grado 0. Attenzione, un vertice isolato, noi possiamo pensare a questi due vertici collegati da un grafo, in realtà questi non sono vertici isolati, ma sono due vertici che hanno entrambi il grado 1. Poi sono separati dal resto del grafo, quindi il grafo in questo caso non è connesso, ma non sono dei punti isolati. Nel grafo orientato mi chiede Alessandro se il vertice 5 è adiacente sul vertice 4, quindi in questo esempio dove eravamo, qui. Allora, sui grafi orientati è meglio non parlare in generale di adiacenza, senza specificare meglio, ma diremo che i vertici raggiungibili dal vertice 5 è il vertice 4, o viceversa il vertice 5 può essere raggiunto sia dal vertice 2 che dal vertice 4. Il termine proprio adiacenza è un termine che per sua natura non ha un verso, quindi cerchiamo di evitare di dirlo. Tecnicamente sarebbe adiacente ad entrambi, però è adiacente in modi diversi e quindi conviene sempre distinguere. Nella libreria parleremo delle funzioni che distinguono quelli che sono gli outgoing edges e gli incoming edges, quindi gli archi che escono e gli archi che entrano e starà poi a noi decidere se considerarli tutti oppure considerare solamente quelli in uscita a seconda di cosa vogliamo fare. Ok, vabbè, definizione di grado è banale. C'è un minimo di ambiguità nel caso in cui ci siano dei cappi, se questo cappio conta 0 in uscita, 0 in entrata, oppure conta 1 in uscita e 1 in entrata, ma questi sono sofismi da matematici che lasciano un po' il tempo che trovano e quindi si possono definire o contare in modo leggermente diverso. Qui si fa vedere per ogni vertice che c'è un grado in uscita e un grado in ingresso, quindi potremmo addirittura avere dei nodi come questo che non hanno niente in ingresso ma qualcosa in uscita, quindi sono dei nodi in qualche modo sorgente, da lì si parte ma non si può tornare, oppure dei nodi in pozzo in cui se arrivo lì poi non posso più uscire perché ho degli archi entranti ma non ho più nessun arco uscente. Cosa me ne faccio di questi archi? Beh, attraverso degli archi posso creare dei cammini. Un cammino è una sequenza di vertici, ciascuno dei quali deve essere connesso da un arco e nel caso di un grafo orientato questo arco deve avere il verso corretto, ok? Quindi un cammino non è altro che una sequenza, cioè un insieme ordinato di elementi, dal primo all'ultimo, dall'uno all'n. Se una sequenza è composta da 10 vertici, chiaramente sarà composta da 9 archi, no? Perché ovviamente il numero di archi che collega i vari vertici è uno in meno rispetto al numero di archi. Un cammino si chiama cammino semplice, e questo noi ci occuperemo quasi solo di cammini semplici, se i vertici vengono usati una volta sola. Quindi se non compare mai due volte lo stesso vertice all'interno del cammino, ok? Come lunghezza del cammino, è una definizione un po' strana, ti conta il numero di archi e non il numero di vertici, c'è un più o meno uno, bisogna solo ricordarci, quindi la lunghezza di un cammino è il numero di tratti che faccio, il numero di archi, e ovviamente il numero di vertici sarà normalmente uno in più. Ecco, allegato al concetto di cammino c'è la definizione importante di raggiungibilità. Noi diciamo che un vertice è raggiungibile a partire da un altro vertice, se esiste un cammino, fatto da più passaggi. Quindi la raggiungibilità è un concetto più ampio rispetto alla semplice adiacenza. Io posso avere due vertici, A e B, che tra di loro non sono adiacenti, ma sono raggiungibili perché da A posso andare a C e da C posso andare a B. Quindi esiste un cammino più lungo, composto da più archi, che mi permette di partire da un vertice e arrivare a quell'altro. Quindi, mentre la adiacenza, la connessione, è una proprietà locale che è immediata da verificare, la raggiungibilità invece non è locale. Io non posso, guardando solamente A e solamente B, sapere se essi sono in qualche modo connessi. Devo andarmi a cercare se nel terrografico, il grafo, c'è un cammino oppure no. Quindi è una proprietà globale del grafo. Qui fa vedere un esempio di un cammino di lunghezza 2, in cui ho evidenziato i vertici 1, 2 e 5, ma diciamo così, non c'è nulla di complicato. Una generalizzazione, o meglio, un caso particolare di un cammino, è un cammino in cui il primo e l'ultimo elemento siano uguali, coincidono, in questo caso parliamo di cicli, cioè di fatto è un circolo chiuso, un percorso che ritorna al punto di partenza, quindi si ritorna al vertice. Il vertice N coincide con il vertice 1, quindi è un caso particolare in cui i due vertici coincidano, ma sono solamente il primo e l'ultimo, non sono il terzo e il settimo, perché creerebbero un cammino non semplice. Ci sono grafi in cui è possibile disegnare dei cicli, creare dei cicli, ci sono i grafi in cui non è possibile creare dei cicli, per come sono fatte le connessioni, chiaramente. Questi grafi si chiamano aciclici, quindi privi di cicli, vuol dire che proprio è impossibile disegnare un cammino che possa tornare al punto di partenza, da qualunque punto io parto non potrò mai tornare in quel punto esatto. Quindi in questo caso, questo grafo è un grafo che ammette dei cicli, ad esempio il cammino 1, 2, 5, 1, che è questo, al fine parto da 1, vado in 2, vado in 5, torno in 1 e ritorno al punto di partenza. Questo è un ciclo chiuso, quindi questo grafo è un grafo che ammette dei cicli, ciclico. Se togliessimo un arco, se cancellassimo questo arco, chiaramente non sarebbe più possibile costruire un cammino che tornasse al punto di partenza, e allora il grafo diventerebbe aciclico, diventerebbe anche molto triste, perché sarebbe tutto molto isolato. Collegato, anche se non sembra a prima vista, ma poi sono fortemente collegati questi concetti, a quello della ciclicità, c'è quello della connessione. Cioè si dice che un grafo è connesso se per ogni coppia di vertici c'è un cammino che li collega. Prima noi ci avevamo chiesti, ma A e B sono raggiungibili? B è raggiungibile da A usando qualche cammino? E abbiamo detto, ci andiamo a cercare, scopriamo se esiste un cammino tra A e B, allora diremo che B è raggiungibile da A. Generalizzando questa cosa ci chiediamo, ma qualunque coppia di vertici, se è vero che per qualunque coppia di vertici A e B esiste un cammino, un cammino che comincia con A o una serie di vertici e arriva da B, per qualunque coppia di vertici allora diciamo che il grafo è connesso. Connesso vuol dire da qualunque punto posso arrivare in qualunque altro punto. Il grafo che rappresenta una rete stradale tipicamente è un grafo connesso, a meno che non ci siano delle isole. Allora, in realtà, tutti i punti all'interno di un'isola sono connessi tra di loro, se sono in un punto posso andare in qualunque altro punto, attraverso un cammino anche lungo eventualmente, non stiamo parlando di connessioni di rette, però non posso da un punto dell'isola andare a un punto della terraferma oppure di un'isola diversa. Quindi in questo caso avrò dei grafi che non sono completamente connessi, ma saranno fatti di molte componenti connesse. Quindi avrò tanti nodi, tutti raggiungibili da tutti, poi un altro gruppo di nodi che sono tutti raggiungibili da tutti, ma non da nessuno di quelli precedenti, e viceversa. Quindi tanti grumi di questo genere. Nel caso in cui le componenti connesse siano una sola, vuol dire che questa prende tutto il grafo, e quindi il grafo è complessivamente un grafo connesso. Questa connessione di connessione è più facile pensarla sui grafi non orientati. Sui grafi orientati diventa più complicata, più complicata la definizione e anche in realtà meno utile, e quindi non andiamo a preoccuparcene. Quindi dal punto di vista della connettività, ogni grafo non orientato, si può sempre decomporre nell'insieme delle sue componenti connesse. Alcune componenti connesse saranno un pochino sfortunate, come questa che è fatta da un vertice solo, altre componenti connesse invece sono fatte da più vertici. Nelle componenti connesse se hanno almeno tre nodi, di sicuro sono componenti cicliche, poiché la definizione ci dice che è possibile andare da qualunque vertice a qualunque altro vertice, ah no, scusate, non è vero. Ho detto una proprietà che non era vera. Lo vediamo tra un attimo. Chiaro che se io aggiungessi dei vertici, potessi aggiungere dei vertici, potrei unire o ridurre il numero di componenti connesse, se invece recidessi dei vertici, li tagliassi, il numero di componenti connesse tende ad aumentare. Quindi più ho vertici, più il grafo sarà, scusate, più ho archi, più archi, avevo detto prima vertici, in realtà cancellatelo, archi, più è alto il numero di archi, più denso, più connesso sarà il grafo, minori saranno le componenti connesse, e minore sarà il rischio di finire isolato. Come dicevo, saltiamo la connessione di connettività sui grafi orientati. Ecco, questa nozione di avere tanti archi, o pochi archi, come la possiamo esprimere? La esprimiamo per confronto al numero minimo e al numero massimo di archi che ci possono esistere in un grafo. In un grafo qual è il numero minimo di archi che posso definire? Zero. Cioè io posso avere un grafo che è fatto solo di vertici, la definizione non me lo vieta, io ho un insieme V di sei vertici e un insieme E che rappresenta gli archi di zero elementi. Vabbè, quello è un grafo, un po' inutile, però è pur sempre un grafo. Quindi il numero minimo di archi è zero, il numero massimo di archi che un grafo può avere è il caso in cui tutti i vertici siano collegati con tutti gli altri, quindi n per n più 1 diviso 2, di fatto, no? E in questo caso si parla di grafi completi, cioè completo nel senso che ha tutti gli archi che potrebbe mai avere. Ecco, un grafo reale sarà una via di mezzo, no? Non sarà vuoto e non sarà completo, avrà un certo numero di archi. Vabbè, un grafo completo. E il numero di archi che un grafo realistico ha viene chiamato la densità del grafo stesso. Quindi un grafo con densità molto alta, vicino a uno, sarà un grafo che ha tutti o quasi tutti i vertici esistenti. Un grafo che ha una densità molto bassa invece è un grafo in cui ci sono molti meno vertici rispetto a quelli che ci potrebbero esistere, che ci potrebbero essere. se voi pensate, i grafi che rappresentano dei fenomeni reali molto spesso hanno densità molto bassa. Immaginate appunto la cartina, la rete stradale d'Italia. Voi avete tantissimi vertici, tutte le città che ci sono diciamo così in Italia, però la rete stradale collega essenzialmente le città vicine, quindi può avere magari molte connessioni locali tra città vicine, una cosa di questo genere, però non abbiamo tutti i vertici collegati a tutti, cioè noi non possiamo pensare che questa città sia collegata direttamente a quest'altra in fondo, tutte a tutte. Quindi avremo un grafo in cui ogni vertice supponiamo abbiamo mille città, metto un numero carico, però ogni città è collegata solamente a quattro, cinque altre città. Allora il numero di archi, quindi vertici, il numero di vertici è mille, il grado di ciascun vertice sarà intorno ai cinque, dico cinque come numero medio, ipotetico, giusto per farci un'idea, quant'è la densità di un grafo di questo genere? Ebbè, devo contare il numero di archi che ha il grafo, allora questo conto, il numero di archi ovviamente è facile perché sarà il numero di vertici per il grado di ciascun vertice diviso due, no? Perché io dico, beh, questo vertice qui avrà cinque archi, ok, quest'altro avrà cinque archi, eccetera, quest'altro avrà cinque archi, quindi basta contare, moltiplicare il numero di archi per ciascun vertice, cioè il grado, per il numero di vertici totali e mi ottengo il numero di archi totali, con attenzione che se il grafo è non orientato ogni arco lo sto contando due volte in realtà, perché lo sto contando negli archi adiacenti al primo vertice e negli archi adiacenti al secondo, quindi questo è questo diviso due, quindi in questo caso il numero di archi sarà, abbiamo detto, mille per cinque diviso due fa cinquecento per cinque fa duemila cinquecento, ecco, il numero di archi possibili, cioè il numero, questa notazione dice il numero di archi che avrebbe un grafo completo che è lo stesso numero di vertici del mio grafo, in questo caso sarebbe mille per n per n-1 diviso due, quindi sarebbe mille per 999 diviso due, quindi lasciamo perdere 999 e facciamo che fosse mille per mille farebbe cinquecentomila, quindi la densità di questo grafo sarebbe la densità sarebbe due mila cinquecento diviso cinquecentomila se non sbagliate i conti, vedete che è un numero molto basso, quindi reti grafi molto estese tendono ad avere una densità molto bassa perché hanno magari una buona connettività locale ma su larga scala non c'è connettività, questo concetto di densità ci serve perché poi ci sono molti algoritmi che scopriremo che funzionano bene solo sul grafico densità bassa oppure altri algoritmi che funzionano meglio se la densità del grafo è alta quindi dobbiamo un pochino farcene un ordine di grandezza di quello che vuol dire bassa, bassa vuol dire 0,001 una cosa di questo genere quindi un numero veramente evanescente e più fosse grande la cartina nel certo senso se parliamo di topografia vediamo che il numero di archi cresce linearmente con il numero di vertici e mentre invece il numero di il denominatore il numero di archi possibili cresce quadraticamente con il numero di vertici qui c'è via via la seconda qua dentro ok? quindi più aumenta v quello che conta non è tanto il numero di vertici ma è il grado di ciascun vertice cioè quanto ogni vertice è connesso agli altri questo è ciò che dà la complessità al grafo non tanto la sua dimensione il grado dei vertici stessi ok ecco darmi ancora l'ultimo la definizione di alberi che sono tipi particolari di grafi qui è una definizione un po' curiosa perché dice che un albero è un grafo quindi un albero è un grafo connesso aciclico non orientato quindi noi abbiamo visto separatamente la connettività cioè un grafo è connesso se ogni vertice è raggiungibile da un altro e separatamente la ciclicità esistono dei cammini che tornano al punto di partenza se uno mette insieme queste due proprietà e chiede che contemporaneamente un grafo sia aciclico è connesso ottiene una struttura particolare che si chiama albero ok la definizione prima ci interessa abbastanza poco perché dice che una foresta è un grafo aciclico vabbè ma lo chiamiamo già aciclico non c'è bisogno di dargli un altro nome semplicemente quando hai non hai un albero solo ma hai più alberi scollegati tra di loro li chiami foresta perché il grafo è fatto di tanti pezzettini diversi non è molto interessante interessante invece è il fatto di mettere insieme aciclico e connesso connesso vuol dire che io se sono questi sono tutti esempi di alberi ok se sono in qualunque vertice tipo questo posso raggiungere qualunque altro vertice tipo questo connesso ma allo stesso tempo è aciclico quindi se io ho un cammino per collegare un vertice a un altro quindi ad esempio questo potrebbe essere un cammino non posso non esistono dei cicli in questo grafo questo vuol dire che non è possibile arrivare dal vertice A al vertice B con un cammino diverso per assurdo se io potessi arrivare dal vertice A al vertice B con un cammino e anche con un altro cammino beh allora a questo punto potrei fare un ciclo chiuso vado da A dal primo cammino poi da B torno ad A sul secondo cammino o viceversa e allora ho creato un ciclo ma visto che per ipotesi il grafo è aciclico questo non può verificarsi il che implica che tra due qualunque punti di un albero esiste un cammino perché il grafo è connesso e questo cammino è unico perché il grafo è aciclico e questa è una proprietà carina nel senso che effettivamente tu sai che per ogni coppia qualunque coppia di punti tu prenda questi sono collegati e il percorso per raggiungerli è univoco è unico c'è uno solo e quindi questo ci serve questo è un esempio appunto di un grafo che ha la proprietà di albero quindi è un grafo connesso lo vediamo anche a occhio che da ciascun vertice è possibile raggiungere qualunque altro non ci sono cicli e questo implica la proprietà che dicevamo che il cammino da qualunque coppia di vertici è univoco è unico e l'albero è lo spartiacque nel senso che se da un albero noi rimuoviamo anche solo un arco qualsiasi il grafo non è più connesso quindi un albero ha il numero minimo di archi per mantenere il grafo connesso se ne tolgo uno il grafo non è più connesso viceversa se ne aggiungo uno quindi torniamo all'albero aggiungete un arco qualsiasi tra qualunque coppia di vertici e automaticamente questo grafo diventa ciclico non potete aggiungere un arco tra due vertici esistenti senza creare un ciclo quindi l'albero è veramente solo spartiacque se tolgo un arco diventa sconnesso non più connesso e quindi si divide in più componenti connesse che chiamiamo pezzi della foresta se aggiungo un arco invece creo dei cicli qui c'è proprio solo quel unico punto di mezzo in cui il grafo non è né disconnesso né ciclico ecco la cosa che forse rispetto magari alla nozione intuitiva di albero che abbiamo in informatica o negli alberi organizzativi la cosa che forse ci può stupire che non ho ancora tanto commentato ma è quello il fatto che gli alberi sono non orientati cioè noi siamo abituati a dire l'albero alla radice c'è il vertice c'è il vertice organizzativo l'albero genealogico i nonni i figli i pronipoti eccetera e quindi c'è un ordine ben definito di una gerarchia ben definita dei vertici all'interno di un albero nei campi applicativi ecco dal punto di vista matematico scopriamo che non è necessario ipotizzare un ordine dei vertici un albero è sempre un albero indipendentemente dall'ordine con cui lo attraversiamo ecco questo concetto di ordine lo possiamo vedere dicendo che un qualunque nodo di un albero quindi un albero che abbia la proprietà che abbiamo detto prima qualunque nodo può essere scelto e lo posso chiamare radice a piacere ciascun nodo qualunque nodo di un albero può essere chiamato radice possiamo scegliere noi in funzione diciamo delle esigenze della nostra applicazione cosa capita se io scelgo un nodo e lo chiamo radice ecco implicitamente gli archi che non sono orientati in certo senso prendono una direzione perché l'arco può essere un arco che si allontana dalla radice oppure che si avvicina verso la radice e quindi ho un ordine dei vertici una relazione tra padre e figli tra rami e foglie qui la terminologia quando si parla di alberi la terminologia genealogica padre figlio fratello eccetera si mescola un po' con la terminologia botanica radici ramo e foglie le usiamo entrambi intercambiabilmente e quindi abbiamo il nostro nodo che abbiamo scelto come radice sarà un nodo che non ha nessun genitore non ha nessun predecessore tutti gli altri nodi hanno esattamente sono raggiungibili dalla radice e hanno ciascuno esattamente un genitore perché è uno perché i cammini sono univoci l'abbiamo visto prima quindi non è possibile arrivare dalla radice a un certo un qualunque nodo con due cammini diversi e quindi vorrà dire che il padre di quel nodo è uno solo perché c'è un modo solo di arrivarci quindi ad esempio questo è lo stesso grafo di prima in cui ho scelto così arbitrariamente che questo nodo mi piaceva di più l'ho chiamato radice allora questo induce un orientamento degli archi nel senso che gli archi di per sé non sono orientati ma li possiamo vedere possiamo evidenziare la direzione di allontanamento della radice sullo stesso grafo posso scegliere un nodo radice diverso r' e questo continua a essere un albero orientato in un senso a cui abbiamo indotto un orientamento diverso da quello precedente quindi la scelta della radice è arbitraria io me lo immagino così immaginate di avere questo albero questo grafo piatto scegliete un nodo qualunque e lo sollevate dagli altri a questo punto tutti gli archi in qualche modo si orientano secondo la forza di gravità tra virgolette immaginaria avendo un certo orientamento ma se io poi lo prendo da un altro angolo da un altro vertice e chiaramente i vertici secondo questa ipotetica forza di gravità si orientano in modo diverso ok quindi è una cosa un po' strana perché noi normalmente quando pensiamo a un albero la prima cosa che pensiamo è ha una radice molto forte da questa radice si ripartono i figli vediamo che invece dal punto di vista dei grafi la radice non ha nessuna proprietà particolare la possiamo scegliere arbitrariamente non c'è nessun nodo speciale che deve essere radice qualunque nodo può essere una radice e sceglieremo ovviamente quello che serve alla nostra applicazione al grafo non interessa il concetto di albero lo riprenderemo anche più avanti nelle strutture dati perché dobbiamo ancora approfondire le strutture dati ad albero avendole a questo punto conosciute dal punto di vista teorico vedremo che invece sono molto utili come una generalizzazione delle liste ad esempio ok ultime note grafi pesati in realtà ne abbiamo già accennato prima semplicemente il fatto che ciascun purtroppo allora oggi ho dato un po' la carrellata di definizioni queste definizioni in realtà si combinano tra di loro quindi potremmo avere un albero pesato orientato eccetera eccetera un cammino semplice su un grafo orientato e si combinano in tutti i modi possibili immaginabili quindi purtroppo sono un po' di termini da tenere la mente con cui acquisire un pochino di familiarità parlavamo di grafi pesati grafi pesati sono grafi in cui a ciascun arco o a ciascun vertice soprattutto agli archi molto più frequente avere un peso sugli archi viene associato scusatemi un numero reale che appunto viene chiamato peso dell'arco stesso possono essere pesati sia i grafi non orientati sia i grafi orientati anche qua dipende dal problema che stiamo cercando di rappresentare vabbè io qui non vi faccio la carrellata di quali possono essere le possibili applicazioni dei grafi ma in realtà sono moltissimi problemi ma poi lo vedremo da adesso in avanti faremo tutti gli esercizi che usano come struttura dati come struttura dati reticolare di questo genere ok ho finito la parte teorica noiosa avviciniamoci invece a questo punto alla programmazione in java e ci chiediamo va bene mi hai raccontato tutte queste belle cose ma poi io in pratica come faccio nel mio programma se volessi rappresentare un grafo a poterlo gestire e vi anticipo già l'esercizio che faremo diciamo così nella seconda ora andremo a prendere la metropolitana di Parigi famosa che è composta chiaramente da moltissime stazioni adesso possiamo poi ingrandire un pezzo da moltissime stazioni che possiamo considerare come i vertici di un grafo e delle collegamenti tra queste stazioni che possiamo rappresentare come archi di questo grafo quindi ci vorremmo poi chiedere ma data una stazione di partenza e una stazione di arrivo sono collegate esiste un cammino qual è il cammino più breve qual è il cammino più veloce lavorando con strutture di questo genere ok non ci arriveremo ancora oggi a trovare cammini minimi ci servirà un paio di settimane perché dobbiamo poi anche scoprire quali sono gli algoritmi per trovare queste cose però diciamo così come esempio che possiamo avere in mente allora chiaramente se noi dovessimo così artigianalmente rappresentare questa struttura dati non è banale come fare perché io ho bisogno di una struttura dati in cui magari dato a questa stazione ne ho diverse adiacenti una verso l'alto una verso destra una verso il basso una verso sinistra quest'altra in diagonale in basso a sinistra e quindi rappresentare per ciascun vertice una lista di altri una stazione diciamo così una lista di altre stazioni adiacenti ma poi queste stazioni a loro volta hanno me come adiacente quindi una struttura dati che si richiude su se stessa non sarebbe impossibile ci mettiamo lì ci ragioniamo un attimo e riusciamo sicuramente a costruire delle liste e delle mappe che ci permettono di rappresentare queste strutture dati però se noi le leggiamo come grafo possiamo usare una libreria apposta per manipolare i grafi ok e questa libreria si chiama jgraph.t quella che abbiamo scelto di studiare in questo corso una libreria jgraph.t che come al solito è una libreria gratuita che trovate a questo sito jgraph.t.org e è abbastanza flessibile perché ci permette di costruire dei grafi che a differenza di quello che trovate in tante librerie diciamo così matematiche o di ricerca operativa dove un grafo è i vertici sono apprendati dai numeri il vertice 1,2,3,4,5 e poco altro questa libreria invece di fatto la possiamo vedere come un'estensione delle collection dove il vertice è un tipo di dato un oggetto java l'arco è un oggetto java rappresentato è un oggetto java e quindi mi posso personalizzare quelli che sono gli oggetti che sto rappresentando quindi non ho il vertice 1,2,3 ma avrò il vertice stazione della concord oppure stazione di san michel e cose di questo genere e quindi ho la possibilità di lavorare direttamente con gli oggetti del mio database tanto per capirci e non avere dei numerini che poi a loro volta fanno riferimento questo facciamo così semplifica lavorare in java rispetto ad altre librerie di algoritmi grafiche però sono più pensate all'ambito matematico e quindi rappresentano in modo molto più astratto il grafo stesso questo si fa ovviamente attraverso i generics così come siamo abituati a fare una lista c'è una lista poi ho il generic che mi dice quali sono gli oggetti da mettere in questa lista lo stesso concetto si applica qua a livello di grafi questa slide raccoglie i puntatori principali ai siti web in cui trovate l'informazione su jgraftt sono un pochino sono tutti collegati tra di loro chiaramente partendo da qua c'è il sito principale jgraftt.org c'è anche una pagina github chiaramente dentro cui c'è lo sviluppo di questa libreria qui dentro quindi ci sono i sorgenti se volete andare a vedere e se volete aggiungere degli algoritmi e contribuire a chi sviluppa la libreria c'è la parte di javadoc dove ci sono le documentazioni delle classi e c'è una sorta di guida utente una user overview ok quindi sicuramente la javadoc è utile proviamo a aprire queste pagine esatto questa è la documentazione java dove ci sono diversi moduli e quello che ci interessa di più è il modulo principale core negli altri ci sono delle informazioni accessorie quindi ci sono tutti i package adesso li vedremo alcuni più nel dettaglio i package forniti da questa libreria jgraftt quindi ci conviene quando abbiamo dei dubbi ricordiamoci di andare a cercare direttamente sulla documentazione il sito principale era questo jgraftt.org che essenzialmente è una pagina di spiegazione ci dice che per avere questa libreria è sufficiente inserire nel file di maven cioè il pom.xml questo richiamo cosa che c'è già nel nostro archetipo di tdp che usiamo quindi è già caricata automaticamente questa libreria ok se volete ve la potete scaricare qua sotto come file zip che contiene le classi ma perché nei nostri progetti usiamo maven non è necessario è già scaricato e poi c'è la parte come dicevo di documentazione guida utente quindi il sito principale era questo il javadoc e poi c'è la guida utente che ci dà qualche documentazione per poter partire quindi a differenza della del javadoc che ci dà l'elenco classe per classe e qua ci dà dei suggerimenti ad esempio su come costruire i vertici eccetera le strutture dati e così via quindi andremo le teniamo presenti perché di tanto in tanto raccontiamo un po' di queste cose sulle slide ma poi di tanto in tanto ci abituiamo ad andare a vedere nella documentazione qual è l'informazione diciamo così alla fonte l'informazione reale perché appunto quando ci servono poi i dettagli li andiamo per scartare lì allora questa libreria come è fatta e questo diciamo così questa tabella l'ho presa direttamente dal javadoc come è fatta allora abbiamo una primo package principale che è questo jgraph-t che contiene una serie di interfacce e di classi principali quindi org.jgraph-t contiene le classi principali che la libreria offre tra cui la classe più importante di tutti che è la classe anzi in realtà è un'interfaccia che si chiama graph che è quella che rappresenta il grafo stesso poi abbiamo vari sottopackage tra cui un sottopackage che si chiama alg che contiene gli algoritmi tutta una serie di algoritmi una sottoclasse che si chiama graph che contiene i vari tipi di grafi ricordate all'inizio quando dicevamo il grafo semplice il multigrafo lo pseudografo eccetera ecco questi sono tutti tipi di grafi che sono contenuti qua dentro quindi noi normalmente useremo delle classi di questo package graph per costruire il grafo della tipologia che ci serve che mi darà quindi un oggetto di tipo graph e su questo oggetto ci saranno delle operazioni elementali che posso compiere tipo andare a prendere il vertice vicino adiacente aggiungere un vertice eccetera e delle operazioni più complesse che in realtà invece sono all'interno di qualche sottoclasse algoritmica e di classi algoritmiche ce ne sono tantissime questo è non ne ho neanche messi tutti perché non mi stavano nel slide i sottopackage del package algoritmico quindi ci sono algoritmi per la connettività ci sono algoritmi per cercare i cicli per cercare gli insiemi indipendenti di vertici per cercare dei cicli che tocchino tutti i vertici così di tour eccetera eccetera tutti i problemi che sono noti in letteratura per molti di questi esiste un'implementazione già pronta all'interno di questi package questi tra l'altro sono package non classi quindi dentro ciascuno di questi package ci sono varie classi e queste varie classi spesso contengono algoritmi diversi per risolvere lo stesso problema perché magari alcuni algoritmi sono più adatti a certi tipi di grafi altri algoritmi sono più adatti ad altri tipi di grafi in termini di grafi orientati o non orientati oppure bassa densità ad alta densità e così via su alcuni di questi problemi diciamo così entreremo ma andremo a toccare solamente alcune di queste categorie di algoritmi ok questa libreria come ragiona allora per questa libreria un grafo è un oggetto che implementa questa interfaccia graph quindi graph è la definizione il tipo principale è definito come un'interfaccia e questa interfaccia è generica con una doppia genericità mi chiede qual è la classe il tipo di classe che rappresenta i vertici e il tipo di classe che rappresenta gli archi quindi per definire un grafo devo prima decidere qual è l'oggetto che rappresenta un vertice e qual è l'oggetto che rappresenta un arco l'oggetto che rappresenta il vertice può essere una qualunque classe aggiungo io una qualunque classe che abbia ben definiti l'ashcode e equals devono essere ben definiti perché ma l'avevamo detto prima i vertici in un grafo sono un insieme quindi i vertici sono memorizzati dentro un set di vertici e poiché un set lavora se fosse un hash set lavora con la funzione di hash ma in ogni caso serve la nozione di uguaglianza ben definita io la libreria non me lo impone ma se io usassi come tipo di vertice una classe che non ha definito un metodo equals rischierei di avere degli errori nel ricercare nel ritrovare i vertici perché non avrei l'unicità dell'elemento all'interno dell'insieme quindi ricordiamoci l'oggetto che usiamo come vertice è come se lo mettessimo dentro un set come se lo mettessimo dentro una mappa e quindi dobbiamo definire bene il metodo il concetto di uguaglianza poi molto spesso questo oggetto l'abbiamo letto o l'avremo letto da un database e quindi probabilmente questo concetto di uguaglianza ce lo importiamo già secondo le regole dell'ORM che abbiamo visto insieme la volta scorsa diventa uguaglianza sulla base della chiave primaria poi tutti i vari concetti convergono però l'importante è ricordarci se creiamo un grafo essere sicuri che la classe che usiamo come vertice abbia ben definito il metodo equals per quanto riguarda invece gli arcs la libreria ci dà già due classi che possiamo usare una si chiama default edge e l'altra si chiama default weighted edge come capiamo dal nome default edge è un arco non orientato è un default weighted edge scusate un arco non pesato non c'è tenente orientamento il default edge è un arco non pesato e il default weighted edge come dice il nome invece è un grafo pesato pesato con un valore reale con un peso che corrisponde a un numero reale se ci basta avere un arco senza informazione oppure un arco con informazione di tipo peso reale un double ci possiamo fermare qua se invece ci serve informazione particolare aggiuntiva sugli archi possiamo tranquillamente definire una sottoclasse di una di queste due e definirci il nostro oggetto di tipo arco quindi mentre il vertice può essere qualunque l'arco deve essere necessariamente o uno di questi due oppure una sottoclasse di questi non un oggetto qualsiasi perché vabbè perché semplicemente l'arco contiene al suo interno l'arco deve contiene al suo interno delle informazioni che gli dicono praticamente a quali vertici è agganciato quindi questo oggetto deve avere al suo interno alcune proprietà alcuni metodi che servono alla libreria per tenere connesso il grafo in certo senso e quindi dobbiamo derivare da queste classi che sono quelle di partenza ma vedremo che rarissimamente avremo bisogno di definire una classe diversa da queste due quindi vabbè possiamo definire questo questo slide non fa altro che ripetere quello che abbiamo detto prima a parole quindi non aggiunge nulla ecco abbiamo detto che quando quindi creo un grafo crea un oggetto di tipo graph ecco che cosa contiene questo oggetto di tipo graph chiaramente avrà una serie di metodi e tutti parametrizzati rispetto al tipo del vertice o al tipo dell'arco perché siamo in una libreria in cui si usano i generics e questi sono i metodi definiti direttamente dalla classe graph quindi tutti i grafi che noi creiamo hanno già automaticamente questi metodi e questi metodi li possiamo riconoscere facilmente perché usano la stessa terminologia che abbiamo visto prima quando abbiamo fatto la carrellata delle definizioni matematiche innanzitutto vertex set e edge set dato un grafo mi dicono mi restituiscono quello che è un insieme dei vertici e gli insieme degli archi quindi posso estrarre l'insieme di V vedete che sono proprio definiti come set e questo è il motivo per cui noi volevamo con l'ashcode e l'equals per poterli estrarre poi avrò dei metodi per costruire il grafo quindi aggiungi un nuovo vertice add vertex quindi è un metodo add come su una lista semplicemente lo aggiunge a una lista di vertici o meglio un insieme di vertici oppure posso aggiungere un altro metodo edge sono quelli per aggiungere gli archi quindi io creerò un grafo come creare una lista vuota crea un grafo vuoto poi ci aggiungo i vertici poi ci aggiungo gli archi ovviamente devo aggiungere prima i vertici e poi gli archi perché quando io aggiungo un arco devo specificare qual è il vertice di partenza e il vertice di arrivo dell'arco stesso quindi il metodo add edge prima al grafo aggiungerò i vertici poi una volta che ho i vertici pronti aggiungo tutti gli archi che collegano i vertici già esistenti che ho già messo nel grafo stesso poi ho altri due metodi per impostare il peso dell'arco set edge restano poco per noi sarà più importante costruire il grafo che distruggerlo e in mezzo ci sono tutti i metodi di interrogazione che ci dicono ad esempio dalle cose più semplici qual è il grado di un vertice degree of qual è il grado degli archi il grado entrante l'in degree e l'out degree li abbiamo definiti prima quindi il numero di vertici entranti in un vertice v il numero di vertici uscenti da un vertice v quindi questi sono i tre metodi che mi danno informazione sul grado e poi avrò metodi che mi danno informazione sulla connettività quindi dato un vertice v mi dice quali sono i suoi archi edges of oppure quali sono i suoi archi uscenti outgoing edges of nel caso in cui il grafo sia orientato oppure quali sono i suoi archi entranti quindi questo vuol dire che dato un vertice posso navigare e spostarmi sui vertici vicini perché dato un vertice mi dà un insieme di archi e questo è l'insieme di archi adiacente a quel vertice quindi io sono su un vertice v edges of mi dà tanti oggetti e diciamo così tanti quanti sono gli archi adiacenti a v questi oggetti e sono oggetti di tipo arco di tipo e è grande di tipo edge e io poi da questi oggetti tipo e posso andare a estrarre quello che è il punto di partenza e il punto d'arrivo e quindi il punto d'arrivo sarà un vertice w sarà il vertice z sono vertici diversi da quello di partenza quindi questo è un po' come diciamo un'estensione di una lista dove però anziché solamente vertici ho anche archi e quindi da un vertice al vertice successivo non mi sposto in ordine come su una lista ma mi sposto attraversando degli archi attraversando gli archi stessi poi chiaramente lo vedremo poi con molti esempi come si usano normalmente questi metodi però è per dire la libreria è abbastanza semplice da questo punto di vista ecco questo fa riferimento a un'interfaccia generica grafo che è riportata qua come interfaccia che è unica quindi tutti i tipi di grafo hanno la stessa interfaccia e quindi hanno i stessi metodi offrono i stessi metodi noi però sappiamo che di tipi di grafo ce ne sono molti e quindi rispetto a questa interfaccia generica grafo ci sono molte classi concrete di grafi di tipi di grafi specifici che implementano l'interfaccia grafo ma danno dei vincoli in più ad esempio il grafo l'arco può essere orientato oppure non essere orientato può permettere i self loop oppure non permetterli eccetera eccetera e quindi ci sono moltissime classi concrete diciamo così all'interno del package punto graph che declinano i vari tipi di grafi quindi come sempre noi dichiariamo una variabile di tipo interfaccia ma poi quando dobbiamo fare la new e creare il grafo dovremo scegliere quale è il tipo di grafo che ci interessa e questa tabellina qua presa direttamente dalla guida utente ci dà un elenco di quelle che sono tutte le 16 diciamo così possibilità che possiamo avere combinando tra di loro il fatto che gli archi siano non orientati oppure orientati che il grafo permetta sì o no il loop i cappi che il grafo permetta o no gli archi multipli che il grafo sia pesato oppure non pesato ciascuna di queste possibilità diciamo così è binaria archi orientati o non orientati loop sì o no archi multipli sì o no eccetera mi danno 16 combinazioni diverse a me interessa una di queste combinazioni quindi vado a vedere nella riga che mi interessa qual è il grafo che devo creare ad esempio nel nostro esempio della che ne so della mappa della metropolitana di Parigi possiamo partire diciamo così in modo semplice pensando che allora le quattro domande quali sono gli archi sono orientati oppure no in questo caso gli archi non sono orientati nel senso che sì è vero che tu ti puoi spostare in una direzione oppure nell'altra ma dal punto di vista della connettività è sempre simmetrica questa mappa quindi se c'è una connessione tra queste due stazioni in un verso beh c'è la connessione anche nel verso opposto scusatemi non ci sono gli sensi unici che possono essere percorsi in un modo solo allora poiché non ci sono mai dei sensi unici non ha senso rappresentare l'arco orientato in un verso oppure orientato nell'altro dico ok l'arco c'è e quindi automaticamente sarà percorribile nei due sensi prima domanda quindi ci possono essere scusate l'arco è orientato o non orientato in questo caso scegliamo un arco non orientato non ci serve farlo più complicato e orientarlo la seconda domanda è sono ammessi i self loop ha senso no nel senso che senso avrebbe una tratta di metropolitana che collega una stazione con se stessa nulla non vuol dire niente e quindi preferisco quindi usare un grafo che non non permetta l'esistenza di questo tipo di connessioni archi multipli e archi multipli dipende dipende da quello vogliamo fare perché se noi vogliamo solo sapere se tra Maglain e Concord c'è una connessione oppure no allora ci basta dire sì c'è c'è un arco se invece ci interessa anche sapere quali sono le linee in questo caso la linea lilla e quella verde che collegano queste due stazioni beh allora dobbiamo tenere distinte e quindi avremo bisogno di due archi che collegano queste due stazioni quindi dipende un po' dal problema che vogliamo risolvere dal problema che ci è stato chiesto di risolvere su questo grafo se come sempre cerchiamo di applicare la regola di non andiamo a complicarci la vita se non è obbligatorio quindi se non ci viene richiesto di dire se io ti chiedessi dimmi se una determinata stazione è collegata a un'altra e qual è un percorso per poterci collegare per poterci arrivare non ti interessa distinguere le varie tratte a te interessa sapere solamente che tra concordo e medlen c'è una tratta e quindi se ti serve la puoi usare quindi non hai bisogno di avere un multigrafo ma basta un grafo semplice ok se invece dovessimo fare dei ragionamenti sulle varie linee che magari hanno velocità di percorrenza diversa o altre proprietà allora a quel punto avremo bisogno di un multigrafo quindi ci complichiamo la vita solamente se necessario e l'ultima domanda è se il grafo è pesato oppure non è pesato anche qua dipende da che cosa vogliamo sapere perché se vogliamo sapere se è possibile arrivare da una stazione a un'altra non ci interessa per noi tutti gli archi sono equivalenti nel senso che l'importante è che ci sia l'arco e quindi lo posso attraversare se invece mi interessasse anche trovare magari il cammino più veloce e magari i vari archi hanno una lunghezza diversa una velocità di percorrenza diversa e quindi di conseguenza un tempo di percorrenza diverso e quindi mi converrà a quel punto pesare ogni arco con il tempo di percorrenza quindi sul discorso degli archi multipli e sul discorso degli archi pesati non posso rispondere semplicemente dicendo voglio rappresentare quella cartina e quindi che tipo di grafo mi serve ma dovrò chiedermi che operazioni mi servirà fare su quel tipo di cartina e allora deciderò che grafo fare nel caso più semplice come sempre come primo esercizio ci mettiamo nel caso più semplice pensiamo che non vogliamo rappresentare i grafi gli archi multipli e magari non ci interessa rappresentare ancora il peso poi magari possiamo sempre modificarlo chiaramente ma la prima versione potrebbe essere un grafo in cui gli archi sono non orientati non orientati self loop no gli archi multipli no il peso no allora in questo caso troviamo non orientati no 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 ci dice che la classe che ci serve si chiama simple graph quindi questa tabellina qua ci guida nel decidere qual è il tipo di grafi io ho preparato qua anche un piccolo diciamo così metodo interattivo per poter scegliere la classe che ci interessa proprio rispondendo una per una alle domande che ho fatto prima quindi queste sono tutte 16 classi messe in un certo ordine e quindi qui rispondo a tre domande la prima domanda è il grafo è orientato o non orientato voi mentalmente dovete cancellare da questa griglia di 16 caselle quella che non vi serve la parte che non vi serve quindi se il mio grafo è non orientato quindi vuol dire che mentalmente tengo ancora valida la parte sinistra della griglia e cancello la parte destra quella rossa ok quindi mentalmente adesso abbiamo solamente anziché 4x4 solamente più 2x4 possibilità la seconda domanda che vi faccio è il grafo è pesato o non è pesato allora anche qua mentalmente buttiamo via o le due colonne esterne o le due colonne centrali nel nostro caso pensiamo un grafo non pesato e quindi teniamo noi avevamo già solamente la prima e la seconda colonna perché la terza e la quarta l'abbiamo buttata via buttiamo via anche la seconda ci rimane solo la prima perché il grafo è non pesato e all'interno di questa questa colonna l'ultima domanda che vi faccio è quali tipi di archi aggiuntivi sono permessi? semplice quindi l'arco normale un arco solo tra due vertici oppure è possibile avere il self loop oppure un multigrafo quindi posso avere più archi tra la stessa coppia di vertici oppure uno pseudografo che può avere qualunque cosa e allora a questo punto vado a scegliere qual è la riga nel nostro caso nel caso più semplice siamo messi anche nel caso semplice e vediamo che quindi abbiamo buttato via la metà destra abbiamo buttato via la seconda colonna abbiamo buttato via le righe 2, 3 e 4 e c'è rimasto solamente questa classe qua quindi è la stessa cosa sia che voi andate a spulciare la tabella che c'è nella documentazione sia che facciate questi tre passaggi ad eliminazione alla fine vi resta solamente dopo aver risposto a queste tre domande vi resta solamente una sola classe che è la classe del grafo che ci interessa rispondiamo alla domanda che ha fatto Loris che mi dice che per il laboratorio meteo quindi era quello dei 10 giorni consecutivi di precisione meteo potevamo risolvere il laboratorio anche usando archi pesati con safe loop ma sarebbe stato conveniente rispetto a una ricorsione semplice allora le due cose sono in realtà indipendenti in quel caso in quell'esercizio un grafo avrebbe in realtà complicato le cose perché se come grafo se come vertici prendevi le tre città poi avevi veramente molti archi tra questi vertici tra queste città e dovevi tenerti conto dentro l'informazione dell'arco del giorno in cui in cui era passato quindi era un grafo un po' strano in cui in ogni giorno a seconda del giorno in cui ieri potevi attraversare alcuni archi e non altri quindi era molto più comoda la rappresentazione lineare però la rappresentazione dei dati e l'algoritmo che ci gira sopra sono abbastanza indipendenti cioè chiaramente sono interdipendenti ma sono due scelte diverse nel senso che noi impareremo abbiamo imparato a lavorare algoritmi ricorsivi che lavoravano su strutture dati lineari ma impareremo facilmente a fare algoritmi ricorsivi che lavorano anche su strutture dati a grafo quindi si può fare un algoritmo ricorsivo che naviga che attraversa che studia che trova soluzioni su una struttura dati che a sua volta è un grafo quindi può essere un algoritmo ricorsivo che lavora su una lista oppure un algoritmo ricorsivo che lavora su un grafo dipende chiaramente da cosa vogliamo fare molte volte il grafo è per sua natura una struttura dati ricorsiva quindi la maggior parte delle cose che possono fare su un grafo richiedono comunque una ricorsione a volte è una ricorsione non complessa quindi è una complessità magari lineare oppure log di n e però per alcuni problemi vedremo che ci torna nel nostro amico esponenziale il nostro amico fattoriale però sempre prima di dire uso una struttura dati oppure uso un'altra la domanda vera che devo farmi è qual è la struttura dati o l'algoritmo più semplice che posso usare per poter risolvere quel problema non cercate mai di usare quello più complicato più generale più potente ma quello più adatto ok allora cominciamo a fare poi i primi passi concreti io voglio creare un grafo e voglio creare il grafo della della nostra città di Parigi ok devo rispondere anche qua a queste a queste domande la prima domanda è che cos'è la classe V che uso come vertice del grafo in questo caso è abbastanza semplice da decidere ci sarà una classe che mi descrive ciascuna stazione stazione della metropolitana o ciascuna di esse rappresenterà un vertice e quindi avrò bisogno di una classe che contiene le informazioni sulla stazione stessa poi deciso questo devo decidere quale classe quindi quale tipo di grafo e noi l'abbiamo visto prima è un simple graph abbiamo scelto come prima esigenza quella di realizzare un simple graph e il tipo di arco che a questo punto è facile perché per i grafi non orientati ma dai per i grafi non pesati userò un default edge per i grafi pesati userò quasi sempre un default weighted edge quindi ho scelto il tipo di vertice ho scelto il tipo di grafo rispondendo con le quattro domande di prima di conseguenza mi scelgo il tipo di arco che sia pesato o non pesato a seconda del grafo che il grafo sia appunto a sua volta pesato o non pesato avendo queste informazioni posso creare il grafo semplicemente facendo creando una new della classe in questo caso simple graph che abbiamo scelto prima rispondendo alle quattro domande passando come generico il tipo del vertice stazione della metropolitana il tipo dell'arco che in questo caso sarà default edge perché abbiamo scelto un tipo di grafo non pesato e questo mi restituirà un oggetto di tipo graph di tipo simple graph che chiaramente implementa l'interfaccia graph e ho questa variabile graph che rappresenta a questo punto un grafo vuoto del tipo che mi serve il costruttore ha un parametro strano vedete che il costruttore new richiede un parametro che qui è stato scritto è punto class cosa vuol dire? vuol dire che internamente la libreria ha bisogno di costruire gli archi quando noi avevamo visto il metodo qua indietro indietro che si chiamava add edge ok questo metodo add edge guardiamolo dal punto di vista della dell'assignature dei metodi java riceve un vertice un altro vertice come parametro ok riceve due oggetti tipo vertice parametrizzati secondo il generic e restituisce un oggetto di tipo arco e allora immaginate dover scrivere il codice di questa add edge deve creare un oggetto di tipo e ma e non lo conosce perché è un generico ok quindi dentro quel metodo lui deve in qualche modo creare un oggetto di un tipo che non conosce che chi ha scritto quel metodo non conosceva non poteva conoscere e non è neppure nei parametri di quella funzione quindi non è che può dire andiamo a vedere di che tipo è quell'oggetto ne crea un altro uguale perché quella funzione non riceve questi parametri allora cosa hanno deciso i creatori della classe della libreria che quando io creo un grafo gli devo dare come parametro il riferimento alla classe degli archi e poi internamente lui andrà quindi punto classe è un oggetto e e è il tipo dell'arco default edge qui avrò scritto default edge default edge punto class il punto class è una proprietà intrinseca di tutte le classi e anche di tutti gli oggetti predefinita che fa riferimento a un oggetto che descrive la struttura della classe stessa fa parte della cosiddetta reflection di java cioè metodi che permettono a un programma java di andare a interrogare il contenuto del programma stesso roba che per fortuna noi non dobbiamo fare ma chi lavora con le librerie spesso deve fare allora è l'informazione che serve al grafo perché tutte le volte che ha bisogno usando i termini di prima add edge è una factory cioè è un metodo che crea un oggetto di un certo tipo lui deve sapere però qual è il tipo di oggetto che deve creare e questo glielo spieghiamo passandogli come parametro appunto la classe che descrive il tipo di arco da creare ok non è possibile mi chiede ma Mario risalire la classe di un tipo generico in realtà sì ma non è possibile risalire quale potrebbe essere eventualmente il sottotipo tu potresti definire una classe con un tipo generico ma poi vuoi archi che siano di una sottoclasse di questo tipo perché purtroppo non purtroppo l'eritarietà ti permette di fare così cioè tu definisci un tipo più generale ma poi in realtà usi oggetti di un tipo più specifico e allora in questo caso lui non potrebbe in nessun modo saperlo e allora ti chiede dimmi qual è dimmi qual è l'oggetto specifico se voi create il vostro a tipo di arco speciale potete sempre definire un grafo con un default edge ma puoi creare degli oggetti che sono sotto classe di default edge quindi per evitare dubbi per evitare che la libreria provi a indovinare qual è l'oggetto ti chiede dimmi tu qual è l'oggetto che voglio che ti crei ok quindi questa purtroppo espone una complessità tecnica interna della libreria e ci obbliga semplicemente a fornire questo parametro ma di per sé non è che ci stanca molto di più esiste in realtà un metodo alternativo rispetto a questo di creare i grafi per scegliere la classe che passa attraverso una classe graph builder ma io l'ho sempre considerato più complicato e quindi in cui ho questa classe in cui rispondo praticamente alle varie domande voglio gli archi voglio il loop eccetera e lui costruisce con questo metodo build graph il grafo opportuno però non mi non aggiunge nulla mi sembra solo più complicato da scrivere ok quindi ho creato il grafo vuoto e poi userò i metodi della classe graph per aggiungere via via i vertici quindi l'add vertex che abbiamo già visto prima e gli add edge che abbiamo già visto prima per completare la struttura del grafo stesso quando l'ho costruito per poter vedere se l'ho costruito correttamente è carino perché la libreria offre un metodo to string che mi permette già di visualizzare mi stamperà direttamente l'insieme dei vertici e l'insieme degli archi del grafo stesso io vi farei solo un esempio proprio per familiarizzarci con la libreria adesso in due minuti e poi dopo l'intervallo invece affrontiamo il problema della mappa di Parigi ok quindi creo semplicemente una classe di prova dentro il mio progetto prova grafo con un suo main solo per vedere come si usa la libreria metterlo in pratica no? andiamo di creare un grafo come potrebbe essere no? questo grafo qua di 3-4 vertici semplicemente così come esempio allora io posso usare ho il mio metodo main posso creare un nuovo oggetto tipo grafo magari il grafo voglio usare semplicemente un nome ai vertici quindi scelgo che ogni vertice sia rappresentato da una stringa e un grafo non orientato e non pesato quindi un default edge questi dati ovviamente questi tipi di dati verranno importati da non ci dovrebbe trovarmela in realtà jgraph.t c'è e quindi vabbè poi importiamo la mano allora import org.jgraph.t .graph .sterisk facciamo così ok non so perché non me l'abbia trovato subito e anche default edge ovviamente è è un tipo di dato importato da org.jgraph.t grafo quale new a questo punto creiamo un simple graph come quello che abbiamo deciso di fare prima simple graph che richiede come parametro appunto il tipo di oggetto da costruire quindi un default edge allora default edge va importato e quindi qua potrò scrivere default edge al posto di null default edge punto class questa è l'istruzione per creare il grafo vuoto quindi la new della mia collection vuota ok sì effettivamente stavo cercando di importare quando c'è ancora un errore sintassi quindi eclipse non era ok quindi abbiamo definito una variabile grafo di tipo graph nella variante simple graph e gli abbiamo passato il tipo di arco come parametro adesso se vogliamo aggiungere qualche cosa possiamo avere grafo punto ad vertex vertex e al vertex poiché il grafo è di tipo stringa al vertex vorrà un parametro di tipo stringa qua quindi un parametro di tipo stringa potrebbe essere chiamiamolo 1 poi aggiungo un grafo un vertice 2 e 3 e vediamo che cosa ho ottenuto facciamo subito un system punto out print line di grafo magari la system la mettiamo maiuscola che dite cosa salta fuori se stampo questo mi stamperà una serializzazione del grafo con la sintassi che usa la libreria jgraphd che vedete che è una coppia parentesi tonde coppia di elementi primo elemento è l'insieme di vertici e ha chiamato il two string dei singoli vertici quindi ci ha messo il nome 1, 2, 3 il secondo elemento è un insieme di archi che in questo caso è vuoto se io aggiungo degli archi posso aggiungere un arco grafo punto add edge tra il vertice 1 e il vertice 3 ad esempio poi posso aggiungere un altro arco grafo punto add edge tra 3 e 2 vedete che add edge richiede parametri di tipo string perché string è ovviamente il generico che ho sognato al tipo di vertice 2 e quindi se rieseguo questo programma mi farà vedere che il grafo ha ovviamente questi vertici ma in più ha due archi uno tra il vertice 1, 3 e l'altro tra il vertice 3, 2 me li ha scritti con le parenti di graffe per ricordarmi che sono un grafo non orientato e quindi questa coppia di vertici questo arco può essere inteso come 1, 3 ma anche come 3, 1 non devo fare affidamento sull'orientamento se io invece avessi creato un simple directed graph quindi un arco orientato semplice quindi ho modificato aggiunto il directed qua nella definizione allora cambia leggermente il modo in cui viene stampato vedete che viene stampato con le parentesi tonde anziché le parentesi graffe per ricordarmi che l'ordine con cui compaiono il primo e il secondo vertice di un arco è significativo è importante ok quindi al punto di vista della print è semplicemente ci aiuta a ricordarci se il grafo è orientato oppure non è orientato nel caso Mario creassimo una sottoclasse di arco dovremmo passare l'oggetto della sottoclasse si qua al posto di default edge Beatrice mi ha chiesto perché qua dentro è vuoto ma è vuoto perché in questa istruzione java è in grado di capire che i generics di questa classe che stiamo creando li copia direttamente dal tipo della variabile grafo che stiamo creando quindi è in grado di dedurre da solo qual è il tipo di come anche quando creiamo una lista list di string uguale new list aperta e chiusa diciamo così con parentesi angolare e lui capisce da solo che deve creare una lista di string e non una lista di altre cose lo potete se volete lo potete tranquillamente specificare anche qui assolutamente semplicemente un sottinteso che java è in grado di capire da solo ma se lo scrivete purché lo scriviate in modo compatibile cioè uguale sicuramente va bene allora sì per chiudere la risposta a Mario se io avessi un tipo di arco che decido io mio arco dovrei metterlo sia come generico del grafo sia come tipo di classe qua ovviamente mio arco dovrà essere una classe che definisco da qualche parte che extends che estende che siano sotto classe di una delle due classi di arco definito quindi o di default edge o di default weighted edge però come vi dicevo è rarissimo avere almeno in molti esercizi non avremo bisogno di fare questo perché spesso le informazioni stanno più nei vertici che non negli archi ok quindi ritorniamo a simple graph simple graph come prima che è la versione che volevamo fare quindi questa se vogliamo la versione di base ecco facciamo attenzione se io cercassi di aggiungere un edge che collega 1 a 7 mi aspetto che ci sarà un'eccezione perché è vero che 7 è una stringa ma non corrisponde a nessun vertice quindi no such vertex 7 lui cosa fa come prima cosa andrà a cercare quando gli ho passato 7 che è un oggetto va a cercare nel 7 dei vertici qual è l'oggetto effettivo diciamo che che ha quel valore che è equals a questo 7 e se non lo trova chiaramente da un errore ok così come se cercassi di aggiungere 1 3 una seconda volta dovrebbe darmi errore dicendomi no insomma in questo caso posso aggiungere una seconda volta e viene ignorato però se cercassi di aggiungere 1 1 mi dovrebbe dire attenzione loops not allowed quindi hai cercato di aggiungere un arco tra un vertice se stesso che di per sé non è vietato ma in questo tipo di grafo nel simple graph invece è vietato non è permesso quindi un minimo di controllo viene già fatto nel momento in cui noi stiamo costruendo la struttura dati tutte queste cose ce le spiega la documentazione nel senso che se noi andiamo sulla documentazione di add edge ci dice ci dice che restituisce il grafo appena creato oppure null null nel senso se l'arco c'era già e poi ti può dare degli argomenti del tipo unsupported operation illegal argument in questo caso c'è dato un illegal argument operation se i vertici non sono trovati nel grafo oppure in questo caso erano erano tipo un tipo di grafo un tipo di stiamo cercando di aggiungere un tipo di arco che non era permesso per questo per questo grafo ok quindi avremo tutta una serie di eccezioni nuove no a cui che non abbiamo visto prima che sono le eccezioni che ci darà la libreria JGGT quando cerchiamo di fare operazioni che non sono permesse per fortuna diciamo così ci avvisa se stiamo cercando di fare qualcosa di non valido ok allora questo se lo vediamo è proprio l'esempietto di riscaldamento noi nella seconda ora dopo l'intervallo proveremo diciamo così a cominciare a lavorare su questo esercizio dove era eccolo qua sulla mappa di Parigi partendo lo useremo come esercizio anche su imparare varie cose chiaramente non ce lo dobbiamo inventare a mano ma da un database ci sono già delle tabelle che contengono le informazioni sulla connessione quindi se guardate nel readme del progetto ci sarà informazioni sul database e quindi leggeremo da questo database e dal database costruiremo il grafo stesso poi nelle settimane prossime impareremo invece a interrogarlo facili delle operazioni sopra quindi se non ci sono altri dubbi o domande io penso che sia un buon momento per fare una pausa e quindi ci potremo risentire chiedendovi già di preparare clonare il progetto farvi il fork di questo progetto metro paris così possiamo lavorare insieme nell'ora successiva a partire dalle 10.30 anzi 10.29 allora ci vediamo dopo pronti con Eclipse in mano per affrontare questo metropolitano di Parigi non potendoci andare almeno ci giochiamo a dopo a più tardi